Sembrava quasi sfumata ieri l'ipotesi che si potessero ospitare a Napoli le World Series 2010-2013, ovvero le qualificazioni per la Coppa America. Lo slittamento della firma del contratto per una questione di diritti economici tra Comune di Napoli e Unione degli Industriali metteva a serio rischio la possibilità di organizzare l'evento nel capolugo partenopeo. Poi la fumata bianca, dopo una rinnovata intesa tra Palazzo San Giacomo, la Regione, la Società Bagnoli Futura e gli Industriali. Per non perdere l'occasione era intervenuto anche il presidente della provincia di Napoli, Luigi Cesaro, disposto ad aprire i cordoni della borsa. Nei prossimi giorni quindi dovrebbe essere firmato il contratto per avviare tutte le procedure per ospitare la manifestazione velica. L'annuncio comunque dovrebbe arrivare nei prossimi giorni da San Francisco, città simbolo della blasonata manifestazione. Subito dopo scatterà la corsa contro il tempo per definire il cronoprogramma delle opere e aprire i cantieri per gli interventi legati al piano di riqualificazione di Napoli. Dopo aver perso l'edizione 2007 della Coppa America, magari questa è la volta buona.